In questo tutorial ti mostrerò come inserire spazi, separatori e titoli all'interno di una pagina. Per iniziare accedi a Supersite. Come prima operazione ti mostrerò come inserire un separatore, quindi clicca sulla voce Aggiungi il contenuto e poi su Aggiungi il widget. Dalla lista dei widget, sezione Layout, seleziona Separazione. Trascina l'elemento all'interno della pagina in una delle aree celesti che vengono proposte dal sistema. L'elemento è così inserito all'interno della pagina. A questo punto puoi cliccarci sopra per impostare lo spessore della linea, la spaziatura, la lunghezza e l'allineamento. Infine clicca Salva per confermare le modifiche. Per inserire uno spazio all'interno della pagina, clicca sulla voce Aggiungi il contenuto e poi su Aggiungi il widget. Dalla lista dei widget sezione Layout, seleziona Spazio. Trascina l'elemento all'interno della pagina in una delle aree celesti che vengono proposte dal sistema. L'elemento è così inserito all'interno della pagina. Cliccaci sopra per impostare l'altezza che preferisci e poi clicca Salva per confermare le modifiche. Per concludere, ti mostrerò come inserire un titolo all'interno di una pagina. Clicca l'icona Aggiungi una sezione qui presente sul bordo superiore ed inferiore di ogni sezione già inserita, in modo da scegliere la posizione che intendi assegnare all'elemento. Dall'elenco degli elementi a sinistra, clicca la voce Titolo della pagina. Scegli la combinazione più adatta alle tue necessità. L'elemento è così inserito all'interno della pagina. Per gestire il testo, selezionalo. Puoi formatarlo e personalizzarlo utilizzando la barra degli strumenti visibile. La modifica al testo viene confermata automaticamente nel momento in cui, con il mouse, selezioni un'area esterna all'elemento in questione.